Ma parliamo un po' di questi ragazzi DSA, cerchiamo di descriverli. Sono, diciamo, in questa piccola parte del corso, parliamo delle caratteristiche del quadro neurocognitivo, dei DSA, ma io proverò a descrivervele in maniera più, come dire, da mamma, siccome conosco bene due bambini dislessici che vivono con me. Allora, i miei figli, per esempio, quando sono a tavola, sono capaci di chiedermi se posso, per favore, portargli un bicchiere, perché il bicchiere magari è disposto al lato del piatto e loro non lo vedono. Ma non lo vedono non perché hanno problemi a vedere, e perché hanno, diciamo, una certa attitudine al non ispezionare lo spazio per il personale. Quindi, per dire, Filippo è capace di avere una scarpa ai piedi, di dover andare a scuola al mattino, avere una scarpa in un piede, non trovare l'altra, magari ce l'ha quasi davanti al naso, però è come se lui non ispezionasse lo spazio, e quindi non la vede. È una questione di attenzione selettiva, cioè lui vede gli oggetti per terra, però non riesce a selezionare, o comunque è sfumata questa cosa, non è così imbranato, poi magari la scarpa la trova anche da sola, e a volte è anche tanta pigrizia. Però, tendenzialmente, siccome per lui è uno sforzo, cioè quella che definiamo pigrizia, io stessa da mamma spesso uso questo termine, per un bambino dislessico non è pigrizia, e che cose che per noi sono automatiche, come automatiche è la lettura dello spartito per un musicista esperto, che addirittura le facciamo anche senza volerlo, effetto Stroop, per un dislessico non sono automatiche, e quindi richiedono uno sforzo cognitivo, e giustamente il ragazzino si stanca, quindi non è pigrizia, è cercare di ottimizzare le forze cognitive e le risorse cognitive. Il ragazzino tende a non ispezionare lo spazio, perché per lui non è automatico, e quindi richiede sforzo, e come tutti i cervelli, cerca di fare meno sforzo cognitivo. Attentivo, e tenersi invece lo sforzo attentivo per quando serve, tipo se incontrà per caso una tigra nel corridoio. Per cui potete notare magari che sono ragazzini che non colgono stimoli nello spazio, con altrettanta rapidità e naturalezza come gli altri. Oppure possono ritrovarsi, questo è più Rocco, che è un po' più piccolino, l'altro mio figlio, che magari si lava le mani, l'acqua comincia a scaldarsi, e prima di riuscire a capire qual è la destra, qual è la sinistra, che blu vuol dire caldo, blu vuol dire freddo, e rosso vuol dire caldo, insomma nel frattempo si è già bruciato. E quindi l'atteggiamento è, invece di risolvere il problema, è quello di chiamarmi, perché comunque lo sforzo di comprensione, destra-sinistra, associazione, colore-significato, anche in questo è uno sforzo attentivo, che per il cervello dislessico può essere, cioè questo problem solving può essere più faticoso che per altri, non che non si riesca, si riesce ma il costo è maggiore, quindi in termini di tempo ci si mette un po' di più, e soprattutto in termini di stanchezza, e anche di attenzione divisa, perché se sto concentrato su una cosa che dovrebbe venirmi in automatico, invece mi ci devo concentrare, magari mi perdo un altro dettaglio, per esempio dove è l'asciugamano, o per esempio che non devo gocciolare per terra, o per esempio che nel frattempo sto pensando che devo ricordarmi di prendere la cartellina prima di uscire di casa. Quindi è una questione di tempi, i dislessici hanno bisogno di più tempo, ed è una questione di sforzo cognitivo, nel mantenere l'attenzione su determinati compiti. Proprio per questo motivo hanno anche delle, come dire, delle caratteristiche nel gioco, cioè sono bambini che spesso nel gioco, non un gioco estremo di regole o di ruolo, magari un gioco di costruzioni, non sono così appassionati di questi giochi, oppure ci giocano ma per poco tempo, e per esempio privilegiano giochi di movimento, oppure giochi in cui c'è da relazionarsi con i compagni, giochi in cui si narrano delle storie, perché sono bambini che fanno fatica a concentrare l'attenzione, per esempio su elementi costruttivi, o su risoluzione di problemi, il puzzle, perché richiedono per uno sforzo attentivo maggiore, uno sforzo del sistema visivo, che spesso è un po' come dire ballerino, e quindi stanca, infatti sono bambini che spesso hanno mal di testa, controlliamo anche sempre che abbiano una visione facilitata, non perché abbiano problemi di vista, ma perché potrebbero avere problemi nel sistema visivo, cioè rebellare magari per i movimenti oculari, oppure di elaborazione proprio dello stimolo visivo a livello centrale, si dice per esempio che vedono ballare le letterine, molti lo dicono, è probabile che non ci sia un problema a livello di retina, ma che sia un problema di elaborazione visiva centrale, proprio determinato da queste piccole zone di ectopia delle aree visive, quindi cerchiamo di non sovraccaricare il sistema, mettendoli anche in condizioni di vederci male, fotocopie scritte male, poco sgranate, magari scritte piccole, è bene usare per esempio, a me piace tanto fare scrivere i ragazzi, anche gli slessici li faccio scrivere, anzi secondo me scrivere li aiuta, scrivere sullo spartito intendo sul pentagramma, li aiuta a leggere poi, a togliere sforzo quando leggono, perché scrivere ha dei tempi più dilatati, tempo che colorano, poi sapete i bambini fanno queste note gigantesche, quindi tempo di colorare tutta la nota all'interno, intanto il cervello si rilassa un attimo, quindi io faccio scrivere, però uso magari i pentagrammi, diciamo quelli con le righe molto larghe, anche con ragazzini già un po' più grandi, non passo subito al pentagramma diciamo tradizionale, e alterno moltissimo i compiti, per non sovraccaricare il sistema attentivo, sono bambini che magari si confondono su cose che a noi sembrano estremamente banali, tipo sono nato prima io o prima mio fratello, e uno dice vabbè è ovvio no, se tu fratello è più piccolo sei nato prima tu, questo diciamo questo ragionamento può non essere così lineare, il prima e il dopo, come funziona l'orologio, insomma sono tutte cose che per tutti i bambini sono complicate, ma per il bambino dislessico rimangono complicate per un po' più di tempo, e anche quando vengono risolte richiedono uno sforzo, per esempio uno sforzo anche concludere il compito, Filippo ma non solo Filippo, amiche diciamo dislessiche della mia età che mi raccontano queste cose, Filippo è uno che lascia per esempio tutti gli armadietti della cucina aperti, perché non conclude il compito, e non è una questione di lassismo o disordine diciamo diseducazione, è proprio che per lui ricordarsi di richiudere, è già tanto per lui capire che deve diciamo organizzarsi per cercare la posata in un certo cassetto, e quindi appena ha finito il compito rilassa il cervello, e quindi non lo porta a termine magari chiudendolo, e sono bambini che possono anche irritare un po' in questo senso, perché sembrano sempre caotici, distratti, perdono il materiale, bisogna cercare di fare diciamo il giusto mezzo tra accogliere questo diciamo modo di stare in mezzo alle cose, perché fa parte di una loro protezione che loro mettono per non stancarsi troppo, e nello stesso tempo però mantenere un atteggiamento che li educhi comunque a un certo ordine anche negli oggetti, nel metodo di studio perché questo è proprio quello che poi lui può aiutare a compensare diciamo questa piccola confusione che li governa. Quindi dobbiamo stare attenti come insegnanti non solo a insegnare lo strumento, la musica eccetera, ma creare nella musica proprio quell'ordine che per un bambino dislessico è difficile autocrearsi da solo. Importantissimo è l'aspetto tempo, il tempo per i dislessici deve essere di più, questo c'è proprio nelle scuole insegnato, c'è addirittura proprio il piano, il PDP, il piano personalizzato, che prevede tra i vari strumenti anche il fatto di avere più tempo nello svolgere per esempio le verifiche. Anche per noi l'aspetto tempo conta tanto. Dobbiamo ovviamente potenziare l'aspetto di apprendimento a orecchio rispetto alla lettura, senza però sacrificare la lettura o comunque intervallando molti compiti. Quindi strumenti diciamo dispensativi e compensativi. Questo più o meno è il ragazzino dislessico. Quindi cosa vuol dire? Non sono ragazzini semplicemente che leggono peggio degli altri o che imparano più lentamente a automatizzare la lettura, ma sono ragazzini che hanno, diciamo, una differente strutturazione delle funzioni esecutive di cui abbiamo già parlato, abbiamo già parlato delle funzioni esecutive. Quindi la dislessia si manifesta nella difficoltà di lettoscrittura ma non è un deficit così completamente solo relativo alla lettoscrittura, questo è ciò che emerge in superficie. In realtà ci sono delle sfumature che riguardano le funzioni esecutive e di queste dobbiamo tenere presente nella nostra lezione di musica perché abbiamo già detto durante questo corso che le funzioni esecutive vengono estremamente stimolate dall'esperienza musicale, questo è un bene, quindi la musica serve molto ai bambini dislessici, ma può anche essere molto stancante e sta veramente alla nostra sensibilità e alla nostra attenzione dosare e modulare le esperienze. Quindi, ci sono due diverse prospettive quando si parla di musica e dislessia. Una ci dice che l'esperienza musicale precoce e soprattutto di tipo multisensoriale è estremamente pratico, attivo, può essere utile per prevenire disturbi specifici dell'apprendimento e migliorare quindi l'outcome nel momento in cui l'isturbo di apprendimento invece si sviluppa. E l'altro punto di vista è che la difficoltà di lettura e memorizzazione di sequenze potrebbero essere trasferibili anche al dominio musicale se sì, quale metodologie didattiche sono più indicate. Quindi, nel ragionare su queste tematiche, quindi della dislessia e musica, noi ci occupiamo di queste due facce della medaglia. Una in quanto educatori musicali, in quanto operatori che lavorano con ragazzini nell'ambito scolastico, ma anche prescolastico, prescolare, e che quindi possiamo essere dei grandi supporti alla prevenzione dell'insorgenza di disturbi d'apprendimento. L'altra ci vede invece operatori che lavorano comunque con la materia musica e che quindi devono tenere presente che il ragazzo dislessico potrebbe avere bisogno di strumenti dispensativi, compensativi e di particolari tecnologie didattiche esattamente come in tutte le altre materie scolastiche. Perché la musica? Perché appunto la musica coinvolge le funzioni esecutive che quindi sono estremamente importanti nella dislessia, perché questa coccorrenza di disturbi di dislessia, discalcolia, disortografia e disgrafia può riguardare anche l'esperienza musicale. Un'esperienza musicale che per essere d'aiuto al dislessico sia in termini di prevenzione che in termini di compenso deve essere di tipo espressivo e multisensoriale. Dunque in realtà noi parliamo sempre di dislessia, invece la scienza ci dice, o comunque gli studiosi di dislessia ci dicono che le dislessie sono tante proprio perché, come abbiamo visto, tante diverse possono essere i fattori eziopatogenetici, quindi il disturbo fonologico, il disturbo dell'elaborazione visiva degli stimoli rapidi, può esserci una zona di ectopia che riguarda area del linguaggio piuttosto che area visiva, piuttosto che il cervelletto, quindi le dislessie si possono manifestare in tante forme. Addirittura una studiosa di Tel Aviv ha mostrato che esistono almeno 17 tipi diversi di dislessia, ciascuno con un suo proprio meccanismo neurale individuabile e con degli errori caratteristici che emergono. Se volete andarvi a leggere qualcosa vi lascio il link. Abbiamo già detto che ci possono essere dissociazioni diciamo e forme di alessia per musiche, per testi in determinate patologie a carico del sistema nervoso centrale. Abbiamo parlato già di possibili ictus o tumori cerebrali o comunque traumi che riguardano particolari aree del cervello che possono poi manifestarsi in deficit selettivi della lettura delle parole piuttosto che della lettura delle note. Questo ci fa pensare che al di là di quello che possono diciamo essere gli articoli scientifici finora pubblicati sulla dislessia musicale il buon senso ci dice che un ragazzo dislessico potrebbe avere delle difficoltà nel leggere lo spartito e che di questo lo dobbiamo tenere presente. Siccome, come abbiamo già detto si ipotizza che la dislessia possa derivare da una difficoltà di decodifica fonologica nelle primissime fasi della vita quindi bambini che già da piccoli fanno difficoltà a sentire differenze di fonemi tipo pa, ba, ta, da che poi questo si manifesta alla fine nella confusione delle lettere quando scrivono e quando leggono. Beh, allora diciamo che questo processo riguarda un fenomeno che più che diciamo solo uditivo riguarda l'attenzione uditiva quindi un fenomeno attentivo e ci sono quindi interessanti implicazioni nel fatto di avvantaggiare questi ragazzi con un'esperienza musicale precoce che va proprio a lavorare sull'attenzione selettiva uditiva. l'abbiamo visto nei precedenti studi sull'effetto McGark di cui abbiamo parlato nelle precedenti lezioni. Abbiamo anche già affrontato il discorso della rappresentazione interna di numeri e suoni queste sono slide che avete già visto le ho rimesse solo per centrare l'argomento il bambino dislessico in questo caso rappresentato da questo bimbetto qui è un bambino che non riesce a rappresentare o comunque che fa fatica a rappresentare concetti astratti in termini di immagine spaziale quindi non rappresenta i numeri in linea ma i numeri vagano nello spazio danzando in ambienti circolari e quindi poi fa fatica ad automatizzare le operazioni matematiche così come certi elementi di grammatica e questo avviene anche per quanto riguarda la rappresentazione dei suoni acuti e gravi quindi i bambini di SA possono trovare difficoltà nell'associazione altezza del suono e direzione del gesto sullo strumento quindi in ogni strumento addirittura anche nel canto se vogliamo anche se è meno evidente c'è bisogno di rappresentare i suoni da qualche parte nello spazio nel canto abbiamo visto che non essendoci diciamo uno strumento fisico che gli occhi possono oggettivamente vedere si dispongono i suoni nello spazio in termini immaginario o come risonanza nel corpo oppure si usa per esempio il movimento diciamo della mano abbiamo visto il metodo Codaly per identificare le altezze dei suoni come gesto della mano nello spazio sugli altri strumenti invece semplicemente i suoni assumono una connotazione spaziale che è relativa a dove vengono prodotti sullo strumento quindi il flauto dolce ha una localizzazione il pianoforte ha una localizzazione il violino ha una localizzazione e i bambini riescono a immaginarsi i suoni anche grazie a questa posizione del suono nello spazio visivo i bambini dislessici non hanno la rappresentazione o comunque ce l'hanno ma ce l'hanno meno forte meno automatica la rappresentazione verticale grave acuto e orizzontale diciamo prima e dopo e quindi l'orientamento sullo spartito che ha queste due grandi direzioni quella orizzontale nella successione dei suoni e quella verticale nella simultaneità per il ragazzino può essere estremamente faticosa cosa vuol dire che prima di presentare lo strumento al bambino in termini di oggetto che viene suonato secondo dei simboli grafici che ci sono su una partitura noi dobbiamo accertarci che il bambino abbia sviluppato una certa si chiama affordance ne parleremo più avanti una certa relazione motoria con lo strumento e che quindi per il bambino io parlo del mio strumento ma ognuno ovviamente avrà il suo è importante creare questa associazione di dove stanno i suoni gravi dove stanno i suoni acuti facciamo dei giochi indipendentemente dallo stimolo diciamo dello spartito lo stimolo visivo a quel punto è proprio il luogo in cui i suoni sono sullo strumento a sinistra e a destra nel mio caso che suono pianoforte e quindi possiamo fare dei giochi per esempio il gioco soffitta e cantina metti i suoni in cantina metti i suoni in soffitta cantina in basso soffitta in alto ma sul pianoforte cantina a sinistra e soffitta a destra cioè cerchiamo di associare grave al luogo dove i suoni gravi sono sullo strumento prima ancora di posizionarli su uno spartito perché questa cosa può non essere così semplice per il bambino siamo sempre là sono cose fattibili ma che richiedono uno sforzo cognitivo maggiore rispetto agli altri bimbi e quindi una stanchezza e quindi una disattenzione e quindi confusione abbiamo parlato di modello a due vie di lettura via lessicale via fonologica bene sembra che ci siano dei tipi di dislessie che si chiamano dislessie superficiali che sono dislessie in cui c'è un deficit della lettura di parole irregolari in cui è necessario l'accesso al lessico per leggere per la conversione grafema e fonema quindi glicine che verrebbe letto glicine se usassimo solo la conversione grafema e fonema ma glicine è una parola che prevede l'accesso al lessico perché conoscendo la parola sappiamo che si deve pronunciare gli gli e non gli ci sono lingue tipo per esempio l'inglese che prevedono una continua diciamo un continuo accesso al lessico e questo per certi dislessici che hanno questa dislessia che si chiama diciamo viene nominata dislessia superficiale può essere drammatico quindi occhio per esempio soprattutto se insegniamo nelle scuole io credo che sia molto importante scegliere repertori che siano vicini al gusto dei ragazzi molto spesso i ragazzi cantano canzoni in inglese ed è molto utile perché questo crea in loro anche delle competenze linguistiche sulla seconda lingua importanti stiamo attenti con i dislessici e non raggiungere problemi a problemi quindi per esempio se c'è il testo in inglese e stiamo imparando una canzone cerchiamo di far sì che il ragazzino dislessico non debba impararlo leggendo e quindi anche le parole sotto lo spartito togliamogliele perché per lui è confondente è comunque uno stimolo in più che il cervello cerca di raccogliere oppure sa che non deve guardarlo quindi deve inibirlo e anche nell'inibizione è comunque una funzione cognitiva al cervello per inibire stimoli non importanti si sforza lo abbiamo visto nel test delle campanelle per i dislessici inibire tutti gli oggetti e guardare solo le campanelle è uno sforzo quindi togliamo informazioni inutili dallo spartito se c'è il testo in inglese eliminiamolo e facciamo studiare il testo a orecchio al bambino dislessia fonologica invece è una dislessia che riguarda più la lettura delle non parole o delle parole sconosciute questa dissociazione tra questi due tipi di dislessia una più a carico del sistema diciamo lessicale dell'accesso a lessi con l'altra della conversione fonologica diciamo mostra ancora di più e spiega il modello a due vie via lessicale via ortografica oppure via non lessicale fonologica di cui abbiamo già parlato in precedenza lezioni quindi il ragazzino deve sviluppare due tipi di coscienza quella fonemica cioè la capacità di giocare con i fonemi abbiamo parlato di giochi in cui io dico una parola tu dici una parola che finisce con la sillaba che inizia con la sillaba con cui la mia parola finisce giochi in cui i fonemi vengono maneggiati come fossero mattoncini di lego che servono per costruire parole e anche questo quindi è lo sviluppo della coscienza fonemica e anche uno sviluppo di coscienza semantica quindi tutto quello che è il lessico delle parole avere un repertorio di parole note che aiutino diciamo l'accesso al lessico nel momento in cui si attiva la lettura per compensare questi due tipi diciamo di deficit lo stesso avviene nella musica noi possiamo avere un tipo di deficit più di diciamo di difficoltà di associazione di etichette verbale a stimoli oppure un deficit più relativo alla memorizzazione fonoarticolatoria e uditiva di cellule e dobbiamo stare attenti a capire quale strada può aiutare il nostro allievo se entrambe se più una se più l'altra dipende molto dalla caratteristica diciamo della dislessia che abbiamo davanti sicuramente non è diciamo una giustificazione comprendere il tipo di difficoltà che ci porta a come dire adottare una didattica completamente dispensativa di una delle due forme cioè la coscienza fonemica e la coscienza semantica quindi la coscienza dei fonemi che nel nostro caso sono le note e il suono il suono delle note semantica che nel nostro caso sono le etichette verbali come si chiamano le note come si chiamano gli accordi queste due coscienze servono per imparare a leggere servono per orientarsi nel materiale fare ordine nel materiale uditivo sonoro e vanno comunque potenziate entrambe quanto e come ovviamente va modulato sul tipo di ragazzino e anche il tipo di dislessia che si manifesta in lui c'è anche un'ipotesi di debolezza nella memoria di lavoro c'è quella memoria che ci permette di tenere a mente il mio numero di telefono ripetendolo questo potrebbe influenzare la capacità diciamo anche di memorizzazione di cellule melodiche complesse teniamolo presente sappiamo che possiamo compensarla diciamo raggruppando gli stimoli creando dei chunks e quindi proviamo a farlo a volte un chunks sto parlando in questo caso di una stringa di lettere però adesso noi facciamo un esempio che riguardi invece una stringa di note a volte per creare dei chunks bastano degli accenti basta battere le mani magari sull'una delle battute per far sì che una frase non sia una cosa che dura quattro battute con tante cose dentro ma diventino quattro distinte battute che sono delimitate da un inizio e questo è già un piccolo chunk quindi l'uso di accenti l'uso diciamo di movimenti che indichino alcuni tempi forti è sempre un modo per creare dei chunks e quindi far sì che il cervello non debba analizzare le note come una dietro l'altra ma che riesca a raggrupparle in blocchi che hanno una diciamo una conformazione uditiva come un unico percetto ricordiamoci anche il problema di cui abbiamo già parlato delle simmetrie per i dislessici è a maggior ragione difficile leggere cose simmetriche teniamo proprio questo esempio per parlare anche dei chunks a volte basta mettere un accento qui magari battendo il piede o suonando un tamburello e già diciamo questa simmetria viene messa in evidenza dall'accento e il cervello riesce a cogliere meglio che sono due blocchi anche il fatto di scriverli più lontani l'abbiamo già detto può essere una strategia ma a volte davvero basta un gesto un accento un colore per aiutare il bambino il ragazzino a fare raggruppamenti uditivi e quindi queste diventano a volte si possono mettere delle non parole per esempio nell'orf si usano tanto le filastrocche queste filastrocche che aiutano a diciamo mettere in evidenza le suddivisioni ritmiche per esempio potrebbe essere un'idea ti che diventa diventa questa cellula dan diventa questa e allora è più facile piuttosto che suonare do senza accenti dicendo no aspetta era una croma no aspetta era una semiminima quindi cerchiamo di farcire il compito di elementi multisensoriali che siano gratificanti di facile comprensione e che bypassino dei problemi i ragazzi dsa hanno difficoltà di percezione di informazioni con variazioni temporali rapide l'abbiamo visto per quanto riguarda i movimenti delle saccadi quindi stimoli visivi che cambiano rapidamente ma questo riguarda anche il sistema uditivo quindi non è solo un'alterata percezione visiva dell'ordine temporale quindi del movimento del contrasto di stimoli rapidi ma anche di stimoli che cambiano velocemente a livello uditivo i fonemi per esempio padaba in un linguaggio cambiano molto velocemente e il bambino potrebbe non riuscire a cogliere velocemente quei cambiamenti già quando è piccolino inoltre studi di neurofisiologia mostrano che la sincronizzazione su un beat e l'elaborazione invece del parlato condividono delle risorse neurali e la sincronizzazione sul battito può facilitare la precisione diciamo di percezione uditiva del parlato in termini di stimoli rapidi infatti in musicoterapia si usa in musicoterapia diciamo nella riabilitazione del paziente neurologico quindi afasie si usa tantissimo la sincronizzazione sul tempo per riapprendere diciamo il linguaggio abbiamo parlato di effetto Stroop l'effetto Stroop è diciamo indica l'automatizzazione della lettura sullo strumento indica che quando questo effetto Stroop finalmente si innesca vuol dire che noi stiamo elaborando in automatico le parole e che quindi non stiamo facendo sforzo di lettura beh si è visto che i ragazzi DSA non hanno maggiori interferenze dei controlli in compiti di Stroop il che vuol dire che la loro automatizzazione può avvenire nei DSA come nei controlli è solo una questione di tempi ci mettono più tempo e quindi in tutto questo tempo nel loro sviluppo il sovraccarico cognitivo è notevole cosa vuol dire vuol dire anche però che se non c'è l'effetto Stroop cioè se non c'è una differenza un'interferenza diciamo maggiore nell'effetto Stroop questo vuol dire che i ragazzi DSA non hanno dei problemi particolari se noi oltre che fargli leggere qualcosa gli facciamo fare anche un altro compito simultaneo tipo un gesto quindi possiamo utilizzare questa doppia codifica non è qualcosa che innesca interferenza anzi è qualcosa a supporto per cui quando dico sforzo cognitivo nella lettura non automatizzata è vero che il ragazzo DSA fa più fatica cognitiva a leggere perché automatizza molto più lentamente non sempre arriva a automatizzare del tutto la lettura ma questo non vuol dire che non devo dargli altri compiti simultanei se no lo stanco anzi perché comunque l'effetto Stroop non si manifesta l'effetto Stroop vuol dire che il secondo compito interferisce sul primo beh per i dislessici esattamente come per gli altri cioè non c'è più fatica se io aggiungo un compito per esempio un gesto oppure sì direi un gesto non sto sovraccaricando il sistema attentivo del dislessico più di quanto non lo faccia con un altro soggetto e siccome noi sappiamo che la gestualità il fatto di aggiungere movimenti col corpo a diciamo compiti di lettura e di codifica aiuta la codifica perché più il corpo riesce cioè più la mente riesce ad avere informazioni multisensoriali ricordate gesto suono forma quindi visivo uditivo motorio più semplice è il compito per il cervello il cervello usa la multisensorialità per raccogliere più informazioni sull'informazione e usare quindi tutte le sue risorse tutti i suoi neuroni per comprendere quel fenomeno quell'informazione quindi usiamo pure la gestualità insieme alla lettura con i ragazzini dislessici perché questo non è un sovraccarico del loro sistema cognitivo anzi è una facilitazione cross modale inoltre c'è questo lavoro che ci mostra che non c'è instabilità posturale nei dislessici in compiti di Stroop cioè che è stato analizzato un gruppo di teenagers di adolescenti che hanno diciamo sperimentato lo Stroop test e si è visto si è analizzato il loro atteggiamento corporeo e non ci sono particolari rigidezze posture che indichino diciamo una una instabilità posturale cioè come se il sistema diciamo motorio possa in qualche modo essere affaticato dal compito di lettura e di doppio compito cognitivo quindi possiamo stare molto sereni da questo punto di vista quindi usiamo tantissimo diciamo il il compito motorio il compito motorio semplice quindi non il suonare con le dita su uno strumento ma un compito motorio che è fatto di battere le mani battere i piedi creare accenti cantare intanto muoversi con degli accenti per supportare diciamo l'apprendimento sia diciamo ad orecchio della musica che della letto scrittura vi faccio vedere una slide dove c'è un test si chiama test di corsi questo è uno dei tipici test che viene usato per studiare le funzioni esecutive e che viene usato anche con i DSA a cosa come viene utilizzato lo sperimentatore o il clinico tocca i cubi in un certo ordine un certo numero di cubi un cubo ogni due secondi in un certo ordine e il ragazzino deve memorizzare quella successione e rifarla quindi è un compito se vogliamo simile a quello che dobbiamo fare quando leggiamo musica perché noi osserviamo i cubi disposti nello spazio che per noi sono le note sul pentagramma e poi osserviamo se il maestro ci fa un esempio il maestro che li legge suona su pianoforte quindi articola un certo gesto una successione diciamo di tocchi in un certo tempo e noi dobbiamo memorizzarlo rifarlo questo è l'apprendimento per imitazione allo strumento cosa che molto spesso facciamo facciamo gli esempi ai ragazzi quando c'è una cellula da leggere gliela facciamo vedere vedere vuol dire che la suoniamo al posto loro magari lentamente così loro possono imitarci bene questo test è usato seppur non ovviamente su uno strumento ma su un tabellone con dei cubi rialzati nei DSA tra l'altro ci sono lavori di ricerca che mostrano che se i cubi hanno poi un suono e suoni diversi il fatto di sentire in questi cubi una melodia fa sì che il ragazzo ricordi molto meglio la successione quindi il sistema uditivo come già ho detto diverse volte e un'informazione in più un senso in più che concorre e aiuta quindi come sempre il cervello ha bisogno di tutti i sensi che concorrono per analizzare l'ambiente più sensi usa e più analizza l'ambiente con facilità quindi questo è un test che riguarda la memoria diciamo procedurale e anche però la successione quindi anche il magazzino di memoria a breve termine che in questo caso sarà il loop non tanto forno articolatorio quanto il taccuino viso spaziale vi ricordate che la memoria di lavoro di Budley nel modello di Budley aveva due componenti il loop forno articolatorio che serviva per memorizzare per esempio successioni di suoni e il loop il taccuino viso spaziale che serviva per poter chiudere gli occhi e ricordare un'immagine visiva bene per imparare questa successione il ragazzo deve usare il taccuino viso spaziale cioè chiude gli occhi e ricorda la successione del movimento se poi i cubi hanno un suono allora usa anche il magazzino forno articolatorio quindi ha due risorse invece che una ottimo quindi si è studiato e si è visto che i ragazzini dislessici hanno un pochino di sovraccarico della memoria di lavoro che quindi che fa sempre parte ovviamente delle funzioni esecutive e che quindi per loro è più difficile ricordare parecchie successioni cosa vuol dire per noi vuol dire che dobbiamo frammentare in pezzi più piccoli le frasi musicali che gli facciamo imparare i test di corsi mostra quindi che i ragazzi di SA pur non avendo una difficoltà nella transcodifica cinestesica cioè non hanno una difficoltà nel dare al gesto un significato riescono ad analizzare correttamente il gesto e riescono anche a riprodurlo col proprio corpo in maniera estremamente corretta non hanno problemi di organizzazione motoria però hanno difficoltà nella working memory cioè nella memoria di lavoro di tutte quelle posizioni e successioni di movimento che di fatto poi si manifesta con una possibile diciamo goffaggine motoria cioè sembra che il ragazzo sia scoordinato in realtà non lo è e semplicemente non ha problemi di coordinazione motoria è semplicemente che il gesto è fatto di memorizzazione di posizioni e se lui ha una memoria di lavoro un po' sovraccaricata non ricorda tutte le posizioni il modo migliore a quel punto è accorciare il compito inoltre abbiamo detto che sincronizzarsi su un bit può in qualche modo far sfruttare al meglio le risorse cognitive della memoria di lavoro e quindi potremmo accorciare il compito e nello stesso tempo cercare di inserire il compito in un flusso in un beat in una pulsazione continua che il ragazzo riesca a riconoscere e che quindi gli dia in qualche modo un input in più per ricordare le successioni quindi sono metodi strumenti compensativi che noi dobbiamo essere in grado di immaginare creare inventare sulla base di una forte capacità teorica di analisi diciamo del deficit anche in questo senso uso di doppia notazione per i dislessici l'abbiamo già detto diventa però necessario la doppia notazione serve sempre per ridurre il carico della memoria sia cinestesica che della memoria di lavoro perché sappiamo invece che le etichette verbali tipo i bicordi do 5 do 6 do 7 entrano in memoria a lungo termine memoria semantica quella dei contenuti quella che ormai è sintesi proteica ed è una memoria che resta per cui non richiede sforzo cognitivo nel momento in cui l'abbiamo appresa per cui se noi lavoriamo su queste codifiche queste etichette verbali fin da subito da sempre con i ragazzi arriva un momento in cui queste codifiche sono un aiuto e non richiedono sforzo un aiuto che serve a leggere un po' meno le note e a dover ricordare un po' meno le note sulla base della memoria procedurale che invece sovraccarica un po' il sistema diciamo della memoria a breve termine finché non viene automatizzato l'apprendimento motorio quindi doppia notazione per utilizzare la memoria diciamo semantica quella del lessico quella dei contenuti a lungo termine però fatta da subito fatta da sempre fatta fin dal primo momento in cui i bambini vengono a lezione quando sono piccoli ovviamente semplificata che si costruisce step by step insieme a tutte le altre competenze per poter fare questo diventa necessario comporre il repertorio apposta perché se noi dobbiamo usare tutti questi codici che diventino poi codici condivisi col nostro allievo non possiamo fare altro che creare un nostro metodo in maniera che l'allievo veda e legga e esperimenti i codici che noi riteniamo essere più opportuni per il suo sviluppo che non sono la notazione tradizionale da subito comunque solo parte di essa quindi cosa fare con i dislessici eliminiamo tutto e semplicemente usiamo l'apprendimento per prove d'errori e per imitazione imitami e poi sbaglia finché non riesce a farlo giusto in realtà la scienza ci dice che nei bambini dislessici il learning by observation diciamo l'apprendimento su imitazione non è così efficace rispetto ai pari non dislessici questo lo potevamo intuire l'abbiamo visto nel test di corsi perché l'apprendimento per imitazione implica un forte impegno della memoria di lavoro però la scienza ci dice anche che invece quando apprendono per prove d'errori quindi il learning by doing per tentativi ottengono prestazioni simili ai pari ora però il buon senso ci dice che apprendere per prove d'errori vuol dire apprendere il cervello apprende sempre ogni cosa che fa l'apprende quando la ripete la rinforza quindi se noi continuiamo a sbagliare il cervello apprende l'errore e per per riuscire a fare giusto dobbiamo per caso fare giusto un po' come gli esperimenti di apprendimento condizionato operante quindi per caso facciamo giusto il cervello capisce che quello è giusto e prova a rifarlo ma intanto deve cancellare tutte le tracce nestiche dell'errore che comunque sono ormai apprese per cui l'apprendimento per prove d'errori lo consiglio perché è un aspetto di ricerca che il soggetto mette in atto molto stimolante cioè io provo 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 sbaglio però provo ma devo creare l'ambiente dove il bambino può provare in maniera che gli errori siano almeno possibile quindi devo prevedere l'ambiente in cui il bambino si mette in gioco ed è esattamente come parliamo per metafore è come mettere il cancelletto alle scale e i paracolpi agli angoli cioè io ti faccio provare per prove d'errori a trovare il tuo equilibrio quando hai un anno e mezzo però costruisco un ambiente in cui i tuoi errori siano errori che non creano diciamo una difficoltà una difficoltà che nel caso del bambino piccolo è un bernoccolo nel nostro caso è ti faccio provare per prove d'errori perché devi tu sperimentare i tuoi apprendimenti ma non ti do uno spartito scritto su due pentagrammi di una pagina e mezza dicendo sì prova tu però magari prova solo il primo pezzo e intanto però gli occhi lo vedono tutto ti costruisco un ambiente dove tu provi ma io mi accerto che i tuoi tentativi portino quasi subito verso il giusto quindi lascio la soddisfazione del processo diciamo soggettivo individuale di ricerca ma monitorando quanto il cervello dovrà in realtà sbagliare prima di fare giusto evitando che sia troppo e questo veramente è uno degli aspetti più creativi del nostro lavoro sembra di no sembra che il nostro lavoro sia insegnare a leggere parlo soprattutto di metodologie dell'insegnamento strumentale qui non tanto di propedeutica perché chi fa propedeutica queste cose le vive le sale sente poi voi siete studenti di didattica quindi queste cose ci sguazzate proprio non ho neanche bisogno di dirvele però per chi invece fa didattica strumentale non avendo mai insegnato propedeutica è strano pensare che il maggior lavoro dell'insegnante sia produrre il materiale e invece proprio così la parte più creativa più come dire stimolante e anche più importante del nostro lavoro è la preparazione dei materiali non è tanto spiegare come utilizzarli quindi guai ad arrivare con lo spartito di Mozart di Chopin di Beethoven o chi per esso e mettersi seduti accanto all'allievo e leggere nota per nota quel metodo lì non è neanche un metodo didattico quello è aspettare che l'allievo per prove d'errori sbatta il naso abbastanza volte da non stufarsi per poi finalmente riuscire a capire com'è sciogliere l'inghippo e non possiamo pensare che la nostra professionalità si limiti a scrivere due diteggiature e dire bravo sei giusto oppure ripeti sei sbagliato quindi nell'insegnamento dello strumento noi dobbiamo essere come gli insegnanti di propedeutica arrivare a lezione con dei materiali preparati con carte penna con canti nella nostra testa con cellule melodiche con strumentini nello zaino eccetera eccetera io sono veramente so che per alcuni studenti che non hanno mai ragionato diciamo in questa prospettiva può sembrare assurdo ma io punterò molto su questo nei miei corsi considerate anche che io ho un percorso da improvvisatrice cioè io ho studiato musica classica per tanti anni con un metodo estremamente tradizionale il mio insegnante di Imola io andavo a lezione mi facevo sei ore di treno mi sedevo al pianoforte dovevo suonare tutto a memoria ogni quindici giorni un'ora di repertorio a memoria avevo tredici anni e quando sbagliavo dovevo ripetere quando lui mi interrompeva dovevo ripetere dovevo ricominciare a suonare da dove diceva lui senza guardare lo spartito suonavamo su due pianoforti quindi lui era di fianco a me e se sbagliavo tante volte di seguito lui chiudeva il libro e andava a fare due telefonate e non continuava la mia lezione e io mi riprendevo il mio treno questo è stato il metodo con cui ho studiato pianoforte ho imparato per carità diciamo che ho capito che cos'è fare musica dopo quando ho studiato improvvisazione e questa parte diciamo di studio che io ho fatto poi in anni successivi quindi già in anni della maturità dopo i vent'anni mi è servita tantissimo per diventare un'insegnante estremamente creativa e io improvviso anche in didattica però improvviso su delle linee guida forti che mi creo non improvviso a caso con improvviso intendo improvviso al pianoforte ma improvviso anche a livello metodologico però le linee guida e diciamo i principi su cui mi appoggio nel mio improvvisare sono estremamente lucidi insomma ci lavoro tanto quindi vorrei che nei nostri corsi emergesse questo aspetto qua in voi questo atteggiamento creativo alla didattica strumentale e l'atteggiamento creativo ci vuole anche nella didattica propedeutica tantissimo però ci sono molti più metodi c'è molto più come dire molta più produzione pedagogica e didattica e quindi ci sono un sacco di suggerimenti bellissimi materiali in giro che si possono prendere mentre sullo strumento c'è poco bisogna inventarselo quindi abbiamo detto una serie di cose non mi ripeto su quest'ultima slide che è ancora legata al discorso precedente stiamo attenti all'apprendimento per prove ed errori andiamo invece assolutamente sereni su tutto quello che è la memoria cinestesica del corpo perché per i dislessici questa cosa è estremamente sviluppata e li aiuta usiamo strumenti compensativi non solo in propedeutica ma anche a lezioni di strumento strumenti che possano supportare lo sviluppo della coordinazione motoria dell'associazione spaziale quindi localizzazione dei suoni e direzione dei suoni acuti e gravi delle diverse altezze che possano supportare la coordinazione motoria facilitata per imparare dei ritmi in maniera precisa e fluida e quindi queste sono un po' le nostre linee guida per una didattica inclusiva la lettura della musica è un'attività mentale estremamente multisensoriale cross modale e per questo è già inclusiva di per sé se abbiamo un approccio didattico corretto che si basa su prerequisiti attività propedeutiche continue in tal senso quindi possiamo veramente dire che imparare a leggere la musica se fatto nel modo giusto è un'attività altamente inclusiva è un'attività che non fa